Ciao creatura Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di... cosa è ASMR? Mi sento sempre fuori centro buh, senza occhiali non vedo nulla, come al solito comunque, già creatura, come letto dal titolo visto che avete richiesto molto, 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 molto la storia della farfalla la storia paranormal perché per qualcuno potrebbe essere una storia paranormal anche un po' creepy no, non è vero e però quando si parla di spiriti 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 è sempre paranormale giusto? no allora andiamo con c'è un c'è un bel vento fuori un bel vento fuori un bel vento questa sera la serata perfetta per questi racconti che non sono horror quindi tranquilla creatura tutti possono ascoltare questa storia oddio dipende dai punti di vista però qualcuno potrebbe trovarlo horror perché siamo tutti diversi devo fare la solita premessa del chit chat tutto ciò che dico è una mia opinione una mia idea un'idea mia e della mia famiglia di una parte della mia famiglia quindi non prendete per oro colato tutto ciò che dico potrebbe essere sì solo un'idea ecco non è detto che sia così chi vuole ci crede c'è chi non vuole non ci crede ecco non è nessuno è obbligato a crederci ovviamente commenti sempre con rispetto per tutte le creature c'è chi vuole credere a queste cose e chi non vuole crederci non offendete ok ognuno è libero di credere in ciò che preferisce o fa star meglio detto ciò iniziamo allora c'è c'è questa tipologia di farfalla che metterò una foto da qualche parte qui perché non so come si chiami probabilmente quando andrò a editare il video e cercherò la farfalla forse verrà fuori il nome comunque questa tipologia di farfalla c'è sempre stata nel giardino in campagna a casa dei miei nonni i paterni lì c'è sempre venuta è venuta tutte le stati tutte tutte le stati tutte le stati e io mi ricordo che giocavo con le mie cugine in giardino e oppure anche da sola perché mi piaceva anche giocare ci sono dei giochi tanti giochi che i bambini possono fare da soli i bambini anche da grande io anche le medie le superiori no soprattutto le medie ecco ma io giocavo anche le superiori poi prima in seconda così e e niente e giocavo sempre in questo giardino e anche dove ci sono i sassi dove si parcheggiano le auto lì nel vialetto ecco nel vialetto e e mia nonna mia zia e un'altra zia che è tra l'altro la protagonista della storia è una zia che in realtà non è proprio una zia da parte mia è la cugina di mio padre però noi abbiamo sempre siamo sempre stati tutti insieme io ho sempre chiamato zii i cugini di mio padre adesso non so che sarebbero i genitori dei miei cugini di terzo grado vabbè abbiamo tutti lo stesso cognome quindi per me sono tutti zio zia zio e perfino la loro madre che era effettivamente la zia di mio padre io la chiamavo zia a volte nonna mi confondevo ma questa è un'altra storia perché appunto stavamo tanto insieme siamo stati tanto insieme quindi vabbè è successo appunto che andavamo lì in estate a giocare insieme e c'era sempre questa farfalla che sicuramente penso non potesse essere lo stesso ogni anno però non lo so giocavamo pure appunto spesso anche con questa farfalla perché lei si appoggiava sulla scala sulla scalinata della di casa dei miei nonni e poi spesso tante volte si appoggiava tipo se io avevo un cappello se mi mettevo così si appoggiava in mano si appoggiava sulla spalla e e sempre in questo giardino ci stava questa zia questa cucina di mio padre e e guardavamo insieme questa farfalla insomma e i gatti ogni tanto cercavano di acchiapparla però ovviamente non ci riuscivano mai anche perché cercavo di impedirgliela e e quindi poi quando purtroppo questa zia è andata è venuta a mancare perché questa farfalla negli anni negli anni negli anni negli anni ehm tornava 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 io dicevo ma com'è possibile cioè so che queste farfalle non vivono tanto e invece questa farfalla o delle sue parenti non lo so tornava 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 fino anche adesso c'è sempre questa farfalla che si appoggia si appoggia su la scalinata e quasi quasi anche si appoggia il cappello Ale e quindi la teoria mia e di un'altra mia zia è che questa sia la nostra zia la sua cugina e quindi è la farfalla Anna Maria è la farfalla Anna Maria e qualcuno giustamente giustamente potrebbe dire ma questa farfalla questa queste farfalle hanno sempre fatto così si però è successo un fatto molto molto strano che mi ha fatto convincere che probabilmente sia davvero mia zia o comunque sono state tutta una una serie di coincidenze allora per chi mi segue da dall'altro canale che io avevo un canale che si chiamava solo ecate splendente e sanno alcune persone sanno che avevo fatto amicizia con dei personaggi di youtube che stavano che stanno che sono di Genova per un periodo sono stata a Genova a incontrare queste persone e diciamo che quell'esperienza mi è servita tanto per capire tante cose e anche ecco è una delle una dei miei butterfly effect ok quella prima ne era successo un'altra no è stato lì è stato quello è un'altra cosa il mio butterfly ha fatto sì che il mio butterfly effect che non c'entra con la farfallona maria però c'entra in realtà tutto tutto insieme e è stata una delle spinte che mi ha dato quella esperienza nel diventare quella persona che sono una persona viva prima ero depressa e tutto quindi tu sai magari forse un giorno racconterò e perché anche le brutte esperienze anche quando il tuo cuore si spezza in mille pezzi da lì anche si può ricostruire tutto cioè può esserci una spinta che ti fa dire che non è giusto che io sono stata così buona e poi l'ho presa in quel posto così in modo proprio eclattante quindi dici ok io non voglio essere come determinati individui voglio essere migliore quindi ti danno tipo una visuale completa di ciò che tu non vuoi essere e quindi inizia ad essere ciò che vuoi essere vabbè grandi linee ma insomma tanto per farti capire forse si è capito qualcosa mi sono trovata lì e la persona che ero andata a incontrare diciamo adesso io non so quanto sia vero ciò che lei mi ha detto dato che ne ha dette tante ecco ne ha dette tante troppe di cavolate però diciamo facciamo finta che sia così che questa volta sia la verità eravamo sul boggiolo di casa e arriva la farfalla Anna Maria la farfalla Anna Maria si palisa a Genova sul boggiolo di questa persona e questa persona mi fa che bella farfalla non ne ho mai viste qua fate così e io cazzo ho cazzo è la zia Anna Maria è la farfalla Anna Maria allora le ho spiegato le ho detto la faccenda la situazione e insomma se è vero che a Genova queste farfalle non esistono cosa ci faceva lì? la farfalla Anna Maria cosa ci faceva la farfalla Anna Maria sul boggiolo di questo individuo ok? di questo personaggio a Genova era lì per me lei sapeva che sarebbe stato il mio una avrebbe scatenato un butterfly effect più avanti e che tutto quello insomma è strano no? adesso magari qualcuno di Genova mi dirà no io l'ho sempre visto in tutti i giardini in tutti i parchi allora dico vabbè però mi è stato molto strano ecco poi anche il fatto che con tutte le farfalle che ci sono proprio questa sembra sempre la stessa perché fa le stesse azioni che faceva la prima farfalla che abbiamo visto proprio con Anna Maria la zia ok? quindi è veramente strano non credo sia la stessa perché dovrebbe avere un sacco di anni quindi non credo che vivano così tanto però appunto questa cosa che torna ogni anno ogni estate e fa le stesse cose o hanno una memoria tipo del DNA non lo so che è rimasto impresso nella nelle generazioni future di tutte quelle farfalle lì che magari fanno parte della stessa famiglia non lo so o tutte quelle farfalle lì fanno queste cose magari ne avete trovate anche voi nei vostri giardini e sono molto friendly queste farfalle si posano sulle vostre mani sui vostri cappelli sulla vostra spalla oppure quella farfalla è Anna Maria non lo so dovreste dirlo voi tu creatura tu creatura che stai guardando questo video dovresti dirmi se effettivamente sono molto friendly queste farfalle perché io non ho avuto altre farfalle che nei giardini così si posassero fossero così cioè stanno questa farfalle sta sulle scale si appoggia tu ti puoi avvicinare anche così con la faccia non scappa e ho fatto un sacco di foto da col telefono un tempo fa e mi cioè non dovevo fare lo zoom io mi avvicinavo proprio col telefono così e lei ferma con le sue ali aperte manidosa anche non si fa fotografare come se nulla fosse come se come se nulla fosse è strano sta cosa no? che ogni anno quella stessa farfalla dico dico quella stessa farfalla perché di quel colore lì fatta così sono tutte uguali quella stessa farfalla ogni anno torna e fa le stesse cose ed è che ha confidenza come se ti conoscesse come se sapesse che tu non le farai male che le farai solo le foto che lei si appoggerà sul tuo cappello sui capelli sulla tua testa sulla tua spalla sulla tua mano e non ci sarà nulla di male non sarà un pericolo lei lo sa come fa a saperlo? è friendly? oppure è incosciente? oppure è Anna Maria? non si sa a me piace pensare che sia Anna Maria che ci viene a trovare come fosse il suo spirito no? dentro questa farfalla questo simbolo così è volata in cielo con la sua libertà no? che adesso sta finalmente bene no? perché ehm si è andata abbastanza giovane ecco e quindi ehm è bello pensare che sia questa farfalla appunto che ogni tanto ci viene a trovare e che adesso sta bene perché appunto la farfalla è anche un bel simbolo no? una farfalla che vola via no? vola nel cielo poi si posa sui fiori non l'ho mai vista posarsi sui fiori l'ho sempre vista posarsi su questa scala e su di noi tipo quindi non lo so o magari è un altro familiare che non so però noi pensiamo a Anna Maria perché il contesto c'era lei lei guardava questa farfalla quindi 2 più 2 fa 4 no? in teoria poi non lo so e mi piacerebbe sapere creatura ehm cosa ne pensi? questo è il questo è il battito di ali no? le farfalle queste sono le farfalle ti è mai capitata un'esperienza simile con qualche animale o qualche cosa che ti abbia ricordato un parente che non c'è più ehm oppure fammi sapere se magari queste farfalle appunto sono friendly sono amichevoli in generale oppure se anche tu noti che c'è anche la vicenda di di Genova è stata molto particolare perché mia zia appunto diceva sempre che questa farfalla è la sorella di mio padre che è la cugina di questa Anna Maria ehm lei diceva sempre che era lei la farfalla però io lì per lì dicevo ma no ma come vuole essere e invece poi è successo questa cosa di Genova e ho detto oh oh non è che fosse fosse a ragione perché è stata veramente strana sempre se è vero che a Genova quelle farfalle non ci sono ecco perché poi anche lì metto in dubbio le parole di chi ha me ne ha dette di tutti i colori quindi ehm di chi appariva una cosa poi era un'altra nella realtà quindi perché poi purtroppo i social chi si mostra nei social sei fortunato se trovi qualcuno che si mostra per ciò che è e non chi si mostra per qualcosa che non è proprio il contrario quindi vabbè comunque spero che questo video ti abbia fatto rilassare e non terrorizzare io io lo catalogo tra i racconti paranormal perché è lo spirito di un defunto all'interno di una farfalla mi sembra abbastanza paranormal dal mio punto di vista se non ti sei addormentata creatura lasciami un like un commento anche random magari commenta con una farfalla che proprio non è random stavolta c'entra e come allora io come sempre ti auguro buonanotte un relax ciao creatura ciao ciao ciao